Le logiche del desiderio è il tema della diciottesima edizione di Scienza Art Ambiente, il festival di divulgazione e comunicazione della scienza, che è in programma a Pordenone dal 15 al 19 ottobre. Il programma del festival, promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Pordenone e dall'immaginario scientifico, è stato presentato oggi in municipio. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. La curiosità c'è, lo so, la frequenza, la frequentazione, la gente che venga a vedere queste cose rimanga numerosa come tutti gli altri anni, ma so che sarà, come tutte le manifestazioni che facciamo in questo periodo, ancora più numerosa degli scorsi anni. Abbiamo bisogno di ritrovarci e condividere queste cose, queste cose belle all'interno della nostra città perché ci fanno capire quanto la cultura sia sempre più importante e sia per noi un fatto consolidato. Scienza Art Ambiente, occasione sempre nuova di incontro con la scienza, quest'anno vedrà la partecipazione di 46 ospiti per anteprime editoriali, incontri, laboratori, seminari, visite guidate, mostre interattive e multivisioni in nove luoghi della città e numerose altre iniziative per tutti i gusti e per tutte le età. Il direttore scientifico Chiara Sartori. Inauguriamo con Gianluca Nicoletti e Stefano Moriggi sull'ultimo libro di Nicoletti, poi abbiamo Carlo Alberto Redi, uno dei biologi più grandi che abbiamo in Italia, che sabato parlerà sulle buone maniere della scienza. Abbiamo una serata di erotismo nel senso che la scienza si occupa anche di che cosa stimola l'eros nelle persone. Altri personaggi, c'è Tommasinelli, fotografo di naturalista famoso, Luca Bigazzi, direttore della fotografia nel cinema. Per ulteriori informazioni visitare il sito comune.pordenone.it slash scienzaartambiente. Grazie a tutti.